Ciao, sono Romina, lui è Polpetta, lei è mia mamma Morena e oltre a lui abbiamo anche i suoi genitori, Pegni e Gas. Abbiamo contattato Stefano, educatore comportamentale Cinovino, perché lui aveva problemi con il padre, non si trovavano molto d'accordo e Stefano ci ha aiutato a capire il motivo, ci ha aiutato a gestirli, ci ha insegnato come poter aiutare loro a stare tranquilli e a comunicare bene. Io posso solo ringraziare Stefano per il suo lavoro, in queste poche lezioni ci ha veramente dato tanto e niente, ora vi saluto e alla grande!